Dopo il maxi sequestro all'interporto di Arezzo scattano gli avvisi di garanzia. 11 gli indagati, tra loro anche nomi eccellenti come la presidente del consorzio di bonifica e il capo della protezione civile comunale. L'ipotesi di reato su cui indaga il pubblico ministero, Laura Taddei, è quella di gestione illecita di rifiuti pericolosi e non e creazione di una discarica abusiva. I sigili per un'intera porzione dell'interporto di proprietà dell'amministrazione comunale erano scattati lo scorso novembre. Sotto sequestro era così finita l'area alle mie spalle dove erano confluiti i fanghi provenienti dai lavori a seguito dell'alluvione che lo scorso luglio aveva profondamente colpito il territorio aretino. I primi accertamenti condotti dai carabinieri forestali avevano permesso di accertare all'interno dei fanghi la presenza di rifiuti pericolosi tra cui sospetto amianto frammentato. In piena emergenza furono infatti recuperate tonnellate e tonnellate di rifiuti. Subito dopo si era proceduto allo stoccaggio ma nell'area dell'interporto erano finiti anche rifiuti pericolosi e non che invece non sarebbero mai dovuti arrivare. Iscritti adesso nel registro degli indagati il responsabile comunale della protezione civile, la presidente del consorzio di bonifica Alto Valdarno, il direttore della stessa struttura e il responsabile del genio civile ovviamente con posizioni diverse. Il capo della protezione civile e con lui anche un'altra dirigente comunale sono infatti soggetti passivi in quanto l'area di indicatore è di proprietà del comune, non avrebbero secondo l'accusa controllato la qualità degli scarti stoccati all'interporto. Gli incaricati dello stoccaggio erano invece il consorzio di bonifica e il genio civile che secondo la procura avrebbero dovuto distinguere rifiuto da rifiuto.